Venerdì 10 maggio, presso l'impianto sportivo Guariglia d'Agropoli, si svolgerà la Festa Provinciale di Sport in Comune, organizzata dal CONI di Salerno in collaborazione con la FEDER Sanità, ANCI, la Direzione Scolastica Regionale della Campagna e l'AICS con il patrocinio del Comune di Agropoli e del Comitato Organizzatore Universiadi di Napoli 2019. Vedrà la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari di tutta la provincia di Salerno. Sono attese 66 rappresentative per un totale di circa 1.500 bambini che si cimenteranno in una serie di attività. Queste si dividono in prove individuali e prove di squadra ed interessano varie abilità. Ogni ragazzo può prendere parte ad un massimo di due prove, una individuale e una squadra. Ci saranno prove di corsa veloce, 30 metri, prove di lanci con la palla, lanci di forza. Ci sarà poi il circuito multisport che pervede quattro prove e la staffetta veloce mista a 6x30 metri. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni prova, sia individuale che di squadra. La manifestazione, a carattere promozionale, giunta alla sua terza edizione, ha l'obiettivo di sensibilizzare il territorio ed essere parte attiva in un progetto comune di promozione dello sport e dei valori che esso rappresenta e sarà anche l'occasione per promuovere le Universiadi di Napoli 2019 in tutti i comuni ed in tutte le scuole della Campania.